Siamo con Enzo Ghigo, una grande istituzione torinese sia dal punto di vista culturale che politico, presidente del Museo del Cinema di Torino, festival importante, tanti eventi, tanti appuntamenti e film e anche come oggi qui proprio al Grattacielo San Paolo un incontro, una masterclass con Pupiavati, quindi una settimana ricca di appuntamenti importanti. Allora Enzo Ghigo, tanto lavoro, tanta professionalità proprio per rendere il Museo del Cinema sempre più internazionale anche con questa mostra bellissima che state facendo su Tim Burton, ma tante altre cose. Stiamo cercando di dare, e questo anno è stato un anno sicuramente di svolta, poi dopo la pandemia è il primo anno in cui obiettivamente possiamo, abbiamo espletato tutte le nostre iniziative, siamo partiti a inizio anno con la masterclass di Kevin Spacey, ancora sotto processo, poi fortunatamente è stato anche prosciolto dalle accuse del processo di Londra, con altri registi premio Oscar e poi naturalmente con Tim Burton e anche Chassel, voglio ricordarlo, regista che è passato proprio dal Torino Film Festival e poi è diventato il regista più giovane nella storia degli Oscar a vincere un Oscar con il film La La Land. Vogliamo continuare in questa direzione, siamo il Museo Nazionale del Cinema, ma facciamo parte di questo sistema, chiamiamolo, del mondo del cinema torinese-piemontese, che vede la Film Commission molto protagonista in tante produzioni cinematografiche, Torino Film Lab, che è una costola del Museo del Cinema, che ha come obiettivo quello di promuovere e di instradare i giovani che mirano, sognano, come ci ha detto oggi, pupi avati, mai avere un piano B ma avere solo un piano A, per poter raggiungere cose che sembrano realizzabili, e Torino Film Lab ha proprio questo obiettivo, tre festival che sono appunto il Torino Film Festival più importante, Cinema Ambiente e Lovers, un cinema massimo, tante iniziative di tipo didattico per portare i giovani attraverso il museo, i giovani diciamo da scolare, ad amare il cinema, il primo passo è quello, e divulgare la cultura della settima arte, che indubbiamente è quella che oggi sembra, come dire, affascinare e permettere di sognare più persone possibili. Un grazie Enzo Ghigo e un buon lavoro come sempre con la grande professionalità. Grazie. Grazie a voi.